Musica Tanti like per capo bassone, aga gaga gaga Cari amici, cari bambocci ma soprattutto, care sorelline in calore, come state? Spero tutto bene, siamo qui nel vastissimo e infinito universo e stiamo per scendere sul pianeta del ritardo The Retard Planet, The Retard, Retard Il pianeta dei bimbi minchia, teste di cazzo Perché stiamo andando nel pianeta dei bimbi minchia? Perché continuo a ricevere messaggi deliranti dai pazzi furiosi talebani bimbi minchia I talebani minorenni, cosa succede? Che la gente continua a scrivermi Ah mi mancano i vecchi tempi, oh capo bastone ma dove sei finito? Ma non fai più video? Ma dove sei? Ma perché non mi arrivano i feed? E intanto mi trombo vostra mamma Allora cos'è successo? Cos'è successo? Che sono qui per darvi una risposta E sarò qui per darvela costantemente e continuamente Perché la gente è decoccio Allora, cosa vi ho detto io sempre? Vi ho fatto migliaia di video Io non sono più presente in questa piattaforma fognatura Qua su youtube è una merda Questo sito è fallito Questo sito non paga Non sfruscia Non sgancia Non mi aiuta Non posso mangiare Non posso campare Non posso pagare le bollette Non posso comprarmi i giochi Grazie a questo sito Io sarei già morto e sepolto Fine The end Come direbbe il grandissimo profeta Matteo Montesi The end La fine E cosa succede? Che mi sono dovuto Per forza e volontariamente Trasferirmi su twitch Sito superiore Twitch ti dà Moltissime possibilità E occasioni di crescere Ti dà la possibilità di monetizzare Tramite ovviamente lo sfrusce della carta dello zio peppe Oppure ci sono i bit Che sono comodissimi Magari qualcuno arriva Sfruscia due trecento bit E un altro ne sfruscia cinquecento Un altro settecento Insomma piano piano Questa cifra ti aiuta Ti aiuta Permettendoti di avere degli abbonati Tramite il twitch prime O in alternativa Se non hanno il twitch prime Possono abbonarsi tramite la carta dello zio peppe Per un anno Un mese Tre mesi Quanto vogliono Anche questo aiuta Alla fine A finanziare A fatturare E questo Tutte queste tre cose insieme Mi permettono di campare Magnare Comprare i giochi E continuare a fare quello che faccio Qui Su questo sito di merda youtube Sarei già morto Finito Esploso Distrutto Capite? Io sono Ovviamente Ho dovuto fare una scelta No? Ho dovuto scegliere tra Morire su questa fogna di sito Dove Oltre a non avere i soldi Non ho ovviamente i feed La gente si autodisiscrive Perché non è che la gente Clicca su disiscriviti Questo io L'avevo già capito tanto tempo fa Ma non avevo le prove Quindi è inutile che siamo qua a parlarne E ve l'ho già detto Praticamente la gente si ritrova Disiscritta Dal mio canale A caso Ormai i problemi di youtube Non mi interessano più Quindi neanche ve ne parlo Perché tanto Ormai La sapete a memoria Ma comunque non mi interessa In maniera generale Ora Cosa voglio dirvi con questo video Che io Mi sono trasferito Su twitch Sito superiore All'indirizzo Capobastone official Lo trovate qua sotto Link in descrizione In sovraimpressione Lo trovate ovunque E io sono online Sono in diretta live Tutte le sere dalle 9.05 Salvo imprevisti O giorni di riposo E quando Voi vi chiederete Ma quando Non ci sei E quando streami Beh Trovate tutti Tutti i post I feed Non qui perché qua non arrivano Ma su telegram Ovviamente il link è sempre qua sotto Su facebook In zona community Qui perché Continuamente lo scrivo Tutti i giorni Se ci sono o no E quindi vi potete Tenere aggiornati Se ci sono o no E ovviamente Noi stiamo andando avanti Non solo col gaming Ma io e Marinella Stiamo andando avanti Anche a fare Salotti Incommensurabili Stiamo trattando Argomenti serissimi Perché Ovviamente Voi direte Venendo sul mio canale Ma non hai migliaia di iscritti Come fai a dire che va bene Va benissimo perché Guadagno e riesco a vivere E questa è una cosa importantissima Ma ovviamente Per avere migliaia di iscritti Che ti seguono costantemente Devi essere un sacco di merda Un figlio di puttana Vendere merda e bimbi minchia E devi sparare cazzate Siccome io racconto Anche di cose serie Racconto del mondo del lavoro Dei soldi Della pensione L'altra sera L'altra domenica Abbiamo parlato Dei rider Di quelli che consegnano Il cibo a casa Dei loro diritti Del fatto che Comunque Non hanno assicurazione L'altra domenica Ancora abbiamo parlato Di soldi Di lavoro Abbiamo parlato Di tematiche Spettacolari Speciali Casi Eventi Il reddito di cittadinanza Abbiamo fatto argomenti Non adatti Ai marmocchi Figli di puttana Ma adatti A gente Con un cervello E che già Comunque Si affaccia Sul mondo del lavoro Dai vent'anni in su Ovviamente Io ho anche fans Minorenni Ma sono Persone intelligenti Quei pochi Che ho Sono persone intelligenti E di sicuro Non sono quelle teste di cazzo Che mi dicono E mi manca Minecraft Torni su Minecraft Tuo Tuo padre Tuo padre Quindi io vi invito A venire Ovviamente Tutte le sere Dalle 9 e 5 In live Domenica Non vi perdete Il salotto domenicale Di questa domenica Perché parleremo Di tanti argomenti Su cui vi lascio Il prurito oggi Perché vi voglio Lì Tutte le sere Dalle 9 e mezza Vi voglio domenica Tutti lì Connessi Dalle 9 e mezza In poi Perché faremo Due ore e mezza Di salotto Di quelli Proprio Bassicci Di quelli Che ricolmi Di estetica Quei salotti Proprio imperdibili Io vi saluto Vi invito A iscrivervi Al canale Twitch Sito superiore Capobastone Official Trovate il link Qua sotto In descrizione O comunque Dove volete Mi trovate facilmente Sono unico E indistinguibile Sono inimmaginabile Sono unico Sono pazzesco Sono paradisiaco Quindi mi trovate Ovunque E C'ho sempre Cazzo duro E non mollo Quindi andiamo avanti Sempre a cazzo duro Senza futuro Vi ringrazio Per tutti quelli Che mi hanno sfrusciato La carta dello Zeo Peppe Che mi stanno dando i bit Che mi stanno dando il Twitch Prime O che si stanno abbonando Con la carta Quindi grazie Che mi state aiutando A portare avanti Il mio canale Che è un canale Che esiste da 10 anni Praticamente quasi 10 anni 16 novembre 2010 Data di apertura Ovviamente qua Non si può più andare avanti Perché qui Ormai Questo sito è morto E mi sono spostato Ma posso continuare a vivere Di là Perché di là Ci sono i mezzi per vivere Su Twitch Devo ammettere Che ci sono i mezzi per vivere Quindi ora vi saluto Tanti like per Capobastone Non seguite i sopravvalutati E ci becchiamo Alle 9.05 Tutte le sere Salvo imprevisti Sul canale Twitch Capobastone Official Saluti dal pianeta ritardo E tanti like per Capobastone Saluti Saluti Viva la figa Tanti like per Capobastone Aga gagaga